Sì, alla fine dovevamo portare a casa la qualificazione, l'abbiamo fatto, siamo molto felici. Adesso pensiamo subito al campionato e poi dopo ritorniamo alla Champions. Siamo contenti di andare a Cannes adesso. Una buona prestazione anche personale, no? Grazie. Aspettavo questo momento da tempo di entrare e dare qualcosa alla squadra. È finalmente arrivato e sono contenta di aver contribuito. C'è l'Europa ma c'è anche il campionato. Sì, diciamo che adesso abbiamo pensato alla Champions, l'abbiamo un po' sticipato il campionato. Adesso sabato avremo Montichiari, sarà una partita difficile perché loro arrivano da un periodo comunque non bellissimo, ma noi dobbiamo andare avanti e giocare come sappiamo. Come state? In che momento siete? Io personalmente sono molto in forma. Penso tutte più o meno, comunque ci stiamo allenando molto forte e penso che in allenamento si vede che stiamo bene. Stiamo bene anche tra di noi, quindi possono migliorare la cosa. Come vedi la squadra, come ti vedi tu in questo punto della situazione? È chiaro che ovviamente anche con l'ingresso e il ritorno di Ferretti nelle ultime settimane è un cantiere aperto. Certo, sicuramente siamo all'inizio, alla fine abbiamo giocato ancora poche partite, ci saranno da limare molte cose, da avere meno blackout durante i set, c'è ancora da lavorare tanto, però anche con la Franci il gioco è molto più veloce, come piace a me perché alla fine io gioco veloce in posto 4, si potrà velocizzare anche con altre giocatrici, e quindi alla fine dobbiamo ancora lavorare tanto, siamo solo all'inizio della stagione.